Entriamo? Sì, svelti. Svelti! Siamo presto. Fermi! Attenta, fermi! Sulla scale! Veloci, veloci! Forza, fuori, fuori! Sbreviatevi, su, forza! Forza, tutti sulla scale! Fermi! Andiamo! Restate qui! Forza, sulla scale! Su, su, muovetevi! Qui ce ne sono altri due! Portali su! Forza, svelti! Andiamo! Su, su! Veloci! Di qua! Di qua! Forza! Brigade! Su, su! L'ufficio dell'ambasciatore! Diteci dov'è! Dov'è? Lei è l'ambasciatore? Sì, sono io! L'ho trovato! Di qua! Dentro! Forza! Via, via! Sbrigatevi! Si muova! Perfetta! Che sta succedendo? Buon! Chi ne va? certainly! Sarà un notontale! Grazie a tutti. Ha fatto irruzione all'interno dell'ambasciata di Francia a Laia e ha preso in ostaggio il nostro ambasciatore e otto membri dell'ambasciata. Sono state appena ricevute le richieste del comando giapponese e riguardano la liberazione dei loro compagni incarcerati nella prigione della Sant'E a Parigi. Ho capito, glielo domando. Aspettano la vostra risposta. Non se ne parla, è una trappola. Questo, signori, non è un buon segno. Rifiutano di farci dare un bagno chimico, che in questa circostanza sarebbe stato molto utile.